Sì, ricevuto, vedi che lì c'è il parco, c'è l'ingresso del parco Sì, occhio qua Sono 15 15 Questa sì, stavo sul 200, ma ripeti stanotte, ho sentito Prenentino Via del campo con c'è l'uomo, ti hanno rapinato una donna E due, la 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 due Ma non mi vogliate, andiamo su con qua Sempre in servizio del parco da Prenentino, mi hanno dato le indicazioni qua Perché ti senti, se ti senti il piano, Prenentino, se ci abbiamo qualcosa in più, eh No, 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 lo fermo dopo le riservate, ho usato il zinghari, tutti i maschi Sì, c'è Fuggar, dovrebbe essere il porto a Prenentino Adesso non si fa l'ingresso del parco, non lo si fa, non lo si fa Sì Dunque la persona non è rimasta ferita No, negativo, sappiamo soltanto che erano tutti maschine, inizialmente hanno parlato anche di donne, donne nomadi, ma sono 8 o 9 maschi, mi hanno aggredito e hanno portato via cellulare e soldi, sono andati via verso il parco, quello che porta poi su via Buona Sede. Fai e l'ho. Scusa. Bessino 2 con urgenza. Bessino 2. Bessino 2. Bessino 2. Abbiamo fatto un carico da Zingari, se viene qualcuno qua con la chiedente. Bessino 2. Bessino 2. Bessino 2. Mi hai ricevuto, mi riporto sul posto, stavo qua all'arco Cervasco, all'interno del parco, io esco dal parco e ci vado. Quindi la parte l'esa ce l'avete voi? Non ci avete rimasto lì sul posto, c'era anche il collega in borghese, noi ci stiamo riavvicinando lì, questa va lì, aspettiamo lì, ci dovete fare già una battuta. Bene, c'è avuto. Qualcuno può avvicinare dall'altra parte del parco, dove puoi fare l'abbia in Sede 2 nel frattempo? Sì, è la Betacomo, sto uscendo qui dal quarticciolo. Bene, Betacomo. No, 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 conveniente là. Eh, sì. Sopra. 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 Sopra.